ok bene siamo qui questa sera con blockchain caffè marco ciao benvenuto sul canale ciao e grazie dell'invito piacere mio ascolta marco niente cominciamo subito per chi pochi che credo nel mondo cripto italiano non ti conoscono raccontaci due cose veloci su di te chi sai cosa fai allora sono un impallinato di criptovalute e block chain come molti immagino di quelli che mi conoscono con i che anche frequentano il tuo canale e ho questo canale si chiama block chain caffè in cui la mattina molto presto prendo un caffè e parlo degli avvenimenti diciamo dell'ultima settimana o di qualche argomento interessante più sul versante tecnologia che sul mercato versante trading o speculazione o la parte economica non sapevo che fosse la mattina perché ti guardo sempre la sera quindi non avevo mai capito che no allora il dietro le quinte è che io avendo a casa moglie due figlie gli unici momenti di pace serenità e tranquillità e silenzio soprattutto per registrare sono quando gli altri torno quindi la sveglia all'orario improponibile e quindi caffè è anche una necessità in questo senso ho capito capito adesso capisco anche tante cose anche il viso magari a volte la faccia un po' sì effettivamente sì bene bene allora che lavoro fai allora adesso fortunatamente faccio questo di mestiere sono riuscito più o meno due anni fa a entrare in questo settore e occuparmi praticamente a tempo pieno lavoro con un'azienda che si chiama food chain e con la fondazione quadrants quindi seguo un po' di progetti relativi alla tracciabilità e anche un sacco di altre cose che poi vengono fuori insomma è un settore molto pimpante quindi le proposte le idee le necessità le cose che si possono fare vengono fuori anche magari da un giorno con l'altro quindi diciamo sono contento di farlo perché hai sempre modo di metterti la prova su qualche cosa di diverso cercare di capire anche altri settori perché non devi saperne solo di bloccioni quando l'applichi al settore x devi conoscere un pochino il settore x o fartelo spiegare un po e adesso faccio questo quindi diciamo youtuber e divulgatore per passione per vocazione per letto fondamentalmente e poi sì sono sono nato tecnico la mamma mi ha fatto nerd ok tu sei sperimenti sei più dentro perché io faccio devops ma sono su un settore legato dal discorso blockchain però anch'io faccio hobby per hobby anche guarda prima facevo anch'io praticamente devops sistemista prima ancora ero programmatore quindi sì insomma l'ho visto un po tutti ho capito ho capito va bene marco dai cominciamo a parlare subito del dell'argomento che tutti a tutti interessano tanto non è che siamo qua per la tecnologia ma siamo qua per esattamente esattamente il vile denaro assolutamente questo old time mai di bitcoin leggevo siamo siamo arrivati stiamo andando stiamo a crescita parabolica no cosa ne pensi qual è la tua sensazione che cosa ti aspetti insomma una festa in questo momento perché finalmente diciamo si sta è un po un periodo quasi della vendetta no dopo diciamo il fuochi d'artificio del 2017 c'è stato poi questo crollo il crypto winter quindi eravamo tutti lì ad aspettare che passasse questo lungo inverno ed era finalmente arrivato probabilmente un po nostro momento quindi siamo in un'altra fase che non vuol dire che sarà così per sempre però almeno come dire ci togliamo qualche soddisfazione vediamo dei risultati interessanti e del buono in quello che abbiamo fatto e ci viene riconosciuto ecco anche questa cosa l'adulta e mai da dove arriva secondo me arriva dal fatto che dei grossi player a un certo punto hanno cominciato a guardare con interesse quello che noi dicevamo oramai da da anni e si stanno convincendo si stanno un po convertendo quindi quando arrivano quelle realtà si portano dietro certi numeri e si vedono certi effetti sull'adozione ma ovviamente anche sul prezzo che sale per ora per ora assolutamente ma la leggevo poco fa nel senso che anche la mia sensazione è anche questa soprattutto sai che cosa io sono un po così stavo guardando il numero di ricerche by bitcoin su google che secondo me è un indicatore molto interessante per vedere qual è il sentiment anche generale delle dell'investitore retail oppure comunque di tutta quelle dei tutti quei no coiners che ancora non c'hanno il manco merito bitcoin e si stanno avvicinando adesso al settore e le ricerche il volume di ricerche è estremamente più basso rispetto a quello che c'era nel 2017 quindi sicuramente è un segnale che non stanno venendo da lì i nuovi capitali lo conferma anche stavo leggendo poco fa adesso mentre aspettavo di iniziare la call con te un discorso un articolo qui su coin telegraph che dicevano sostanzialmente che la maggior parte del dei volumi che arrivano in questo momento sono proprio dai investitori istituzionali e da big player che ci stanno cacciando dentro del capitale e vedono che è una bull run completamente diversa da quella del 2017 con dei protagonisti completamente diversi questo fammi dire io l'ho noto anche un po però noto che c'è dell'interesse sui gruppi facebook italiani perché noto che il livello di discussione sta precipitando no quindi le domande sono sempre sono sempre meno specifiche sono sempre meno tecniche sono ho comprato 3000 euro di questa criptovaluta in posizione come dico sempre 5500 che nessuno conosce che cosa ne pensate oppure qual è la prossima che spacca cosa di questo tipo quindi è normale è normale sul fatto che si è cambiato il diciamo il la persona che adesso comincia a interessarsi per certi versi una cosa positiva per altri no diciamo due facce della medaglia sono che mentre nel 2017 c'erano le zie i parrucchieri e chiunque che voleva cominciare a buttare subito si buttavano sono arrivate si sono buttate probabilmente sono anche fatti molto male adesso la cosa avviene in maniera diversa quindi siccome ci sono i grossi vuol dire che bitcoin è diventato grande è diventato adulto si è cominciato a sedersi a certe tavole il discorso è quando questi arrivano tutti i movimenti cominciano a diventare molto più grandi quindi avremo sicuramente quello che stiamo vedendo è crescita è molto grosso perché gli ultimi due giorni ha fatto mille dollari da solo forse anche di più però vuol dire che anche le cadute potrebbero essere molto più grosse perché comunque ricordiamoci la capitalizzazione di bitcoin nonostante sia cresciuta se abbia superato warren buffett è comunque ancora un tappo di sughero in mezzo al mare rispetto a cose grosse quindi quando ci sono i movimenti grossi li vedremo sia in salita ma anche in discesa anzi soprattutto perché come dicevi giustamente tu c'è stata una crescita parabolica e noi sappiamo che le crescite paraboliche non durano dopo una crescita parabolica c'è una correzione come fisiologico normale che ci sia quindi adesso ce la godiamo magari settimana prossima crollerà a 28.000 24.000 eccetera eccetera per noi va sempre comunque bene però certo dobbiamo aspettarci cose di questo tipo qui l'aspetto negativo è che per chi almeno io tifo per la mass adoption mi piacerebbe di più vedere magari appunto piccole e medie imprese piccole aziende negozianti che ci guardano dentro e che capiscono che magari bruciano un po sul tempo i grossi player cominciano perché nel 2017 succedeva questo era una roba di appassionati di gente che ci si buttava che si interessava e che magari adesso sta raccogliendo qualche cosa mi piacerebbe continuare a vedere il piccolo che in maniera più ordinata rispetto al 2017 fa dei tentativi in questo senso questa specie di rovereto più diffusa ti ricordi nel 2017 c'era rovereto che esatto un bel esempio e a me è dispiaciuto perché poi alla fine sono un po tornati indietro nel senso che sono partiti come il centro il polo del bitcoin e poi purtroppo sono un po tornati non ho più sentito niente ecco diciamo così sì ma questo guarda anche sul discorso appunto del fatto che diciamo le persone della strada in questo momento non sta ancora guardando bitcoin nonostante sia più alto del 2017 secondo me è una questione più di comunicazione e di percezione perché molti appunto hanno già sentito bitcoin anni fa quindi manca quella cosa della novità perché ah sì era quella roba vecchia no la percezione che secondo me è un po questa qui vecchia roba di tre anni fa e non si rendono conto di quello che sta veramente succedendo perché se ci fosse un comportamento diciamo coerente col passato diciamo maggior ragione dovreste entrare adesso invece la comunicazione comunque il percepito cambia purtroppo vedevo mi hanno mandato una foto giusto ieri sera sulla televisione francese ancora una volta parlavano di bitcoin ovviamente di cosa parlano parlano di armi droghe dark web e quindi la percezione rimane ancora un po quella oggi con io faccio parte anche di un'associazione di consumatori abbiamo fatto uscire un articolo dove chiediamo fondamentalmente che gli organi di stampa diano un'informazione corretta rispetto a questo anche perché l'informazione distorta in negativo in questo senso potrebbe essere diciamo un modo per far perdere dei potenziali investimenti fatti bene se fatti bene ai consumatori quindi così siccome non è corretto pompare bitcoin e fare delle diciamo dare dei consigli finanziari quando non è il caso per esagerare in su per correttezza anche non bisogna farlo neanche all'incontrario quindi demonizzarlo o screditarlo quando ovviamente non è assolutamente il caso perché appunto così come qualcuno qualche soldino se l'ha fatto in passato magari può capitare che succeda anche adesso e sapere che magari ti viene soffiata una possibilità perché semplicemente piace parlarne male cioè un po' come se uno dicesse non ti faccio investire sulla tesla perché invento qualche storia su cui il motore elettrico esplode ed è mortale allora non ti faccio investire su quella e tu come dire si guarda se avessi avuto un'informazione corretta avrei fatto le mie scelte in maniera diversa sempre con la mia responsabilità ma almeno basato auguri però fammi dire Marco nel senso che la stampa ci va a nostre con i titoloni clickbait in negativo chiaramente cliccano di più sono quelli che tirano di più io qualche anno fa mi ricordo che è riuscito un articolo 2018 credo tra l'altro su Repubblica su bitcoin nel senso negativissimo avevo fatto un video al riguardo l'avevo segnalato su reddit tra l'altro mi sono arrivate mille qualcosa mille a voto insomma una cosa paurosa dopo ne faccio degli altri però ho notato che il tono era sempre quello quindi dopo un po' mi sono anche rotto anche un po' le scatole sì 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 ma il beh beh guarda io ho letto anche vabbè solo le 24 ore anni fa aveva fatto un inserto di 16 pagine dove cioè era tirato con i dadi tra parte qualche piccola parte dove poteva essere corretto c'erano più informazioni sbagliate o al contrario di quelle che sono quelle vere recentemente ne ho letto un altro dove c'era bitcoin nel titolo poi non si capiva di che cosa stesse parlando non lo so la situazione dell'informazione in italia io la vedo molto molto male e diciamo che guarda mi ero anche proposto mi ero anche interessato qua a milano con l'ordine dei giornalisti cercando ma ero riuscito anche a sentire qualcuno di guarda vengo lì non vi chiedo di come dire di convertirvi però almeno vi dico questa cosa è fatta così e funziona così così non non c'è altrimenti fai prima scrivere che i bitcoin sono fatti di groviera e la serie è esattamente la stessa eppure non non ci sentono non mi ricordo mi ricordo il tuo video mi ricordo il tuo video altro da marco niente e tu sei un bitcoin maximalist o no sei un maximalista o no a metà metà faccio faccio outing in questo senso allora io sono il 100% sposo il 100% delle tesi dei massimalisti ogni volta che parlano bene di bitcoin perché mi trovo d'accordo perché secondo me è vero secondo me è vero che bitcoin ha dei vantaggi rispetto ad altre che non vuol dire che sia la migliore ha una serie di vantaggi che sono specifici suoi non mi trovo d'accordo con i massimalisti quando fanno il secondo passaggio cioè bitcoin è grandioso tutto il resto fa schifo io su quella seconda parte lì non mi trovo perché nel senso così come sono assolutamente convinto della bontà di bitcoin di quello che fa sono sicuro che ci siano altri progetti che fanno altro e che per certi versi molto spesso è anche inutile stupido paragonarli perché dici sì ok cadono in quella categoria ma sono diversi il classe una delle classiche lotte che c'è bitcoin contro ethereum non ha senso cioè sono due cose diverse fanno due mestieri diversi fanno due mestieri diversi quindi confrontare diciamo ma non so le automobili sono meglio delle zappe e certo dipende quello che devi fare se devi fare un trasloco sì se sei un agricoltore no bisogna cioè tutto è sempre la risposta giusta per me è sempre un dipende quindi anzi talvolta credo che alcuni atteggiamenti dei massimalisti quelli più passami il termine talebani possono essere addirittura dannosi perché mettono in luce un aspetto negativo di questa community che è quello di darsi contro litigare assolutamente affossare progetti io ho visto alcuni progetti affossati di massimalisti perché semplicemente erano progetti diversi da bitcoin dove perché allora si può fare soltanto quello certo sono cose diverse non bisogna come dire dall'altra parte diciamo purtroppo ci abbiamo avuto anche qua in italia da noi come dire le famose blockchain 4.0 e gli nmila killer di bitcoin monete migliori di bitcoin purtroppo truffe del genere sono ancora in giro anche in questo momento ecco è sbagliato anche quello da quell'altra parte quindi io sono per un approccio pragmatico bitcoin è fantastico per tutte quelle cose che fa bitcoin e ci sono altre cose che giustamente non sono il compito di bitcoin ed è giusto che magari bitcoin anche proprio se ne disinteressi perché non non è quello che vuole fare magari quella sfida la raccoglie qualcun altro e lasciamogliela portare a termine magari se viene fuori bene è un vantaggio comunque per tutti anche se non si chiama bitcoin siamo 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 allineatissimi siamo allineatissimi io dico la verità nel 2017 mi ero interessato moltissimo al discorso altcoin ma entrando anche nello specifico di molti progetti che effettivamente mi sembravano molto interessanti per fare cose diverse da bitcoin perché alla fine lo store of value secondo me soprattutto a livello di store of value nuovo oro digitale io ci credo moltissimo in questa narrativa non so non so tu io credo sia anche però sul discorso dei pagamenti secondo me come mass adoption tu ti aspetti anche una mass adoption a livello di pagamenti o sbaglio diciamo che non l'escludo cioè io la vedo un po più improbabile diciamo così è più improbabile perché bitcoin lo abbiamo fatto effettivamente diventare lo store of value tramite oro digitale ma l'abbiamo fatto noi noi utenti abbiamo stabilito che quello strumento che può fare magari anche altre cose noi preferiamo usarlo in quel modo quindi la connotazione di oro digitale bitcoin la data alla community assolutamente assolutamente il paper parte con peer to peer cash system certamente noi l'abbiamo fatto diventare meno cash quindi ad esempio per esempio un altcoin che io ho guardato con simpatia è ad esempio dash dash è molto più vicina al concetto di cash system pagamenti peer to peer giornalieri di quanto possa esserlo bitcoin ma lo stanno usando anche tratto in venezuela leggevo che lo stanno usando tantissimo esatto lo stanno utilizzando quindi ecco questo per esempio potrebbe essere un esempio di diversa specializzazione di due realtà che possono tranquillamente convivere che non ha nessun senso che si pestino i piedi a vicenda o che come dire trovino opposte fazioni di facinorosi e tifosi che si danno conto perché non ha senso perché cioè io adesso anche se potessi comprare i biglietti della metropolitana con bitcoin cosa che potrei fare io non lo farei ma non lo farei mai infatti esatto non perché ho un altro obiettivo per quel franzo di bitcoin che ho ho qualche dash magari non so le variazioni di mercato mi rendono più spendibile quella e perché no perché no assolutamente assolutamente ascolta il discorso ethereum come sai io qualche tempo fa ho fatto fatto la guida bellissima mi sono divertito mi sono divertito moltissimo a fare il mio il mio staking node ethereum sul testnet perché sono un poveraccio e 32 e tra adesso sono tanta roba eh lo so per me che il 32 quando ci ho guardato erano 16 mila euro adesso con questa pompata qua ho appena guardato pochi minuti fa ethereum ma ha sfondato i mille dollari quindi servono 32 mila dollari comincia a essere diciamo un prima era bisognava essere un po pazzi adesso bisogna essere un po ricchi più che essere un po quindi ho perso il treno diciamo però ho il mio staking note qua che funziona bello mi diverto e tutto come la vedi hai guardato un po il discorso beacon chain il fatto che stiano cercando di fare queste shard che cosa ne pensi allora è una cosa sicuramente molto interessante dal punto di vista tecnico c'è anche da dire sì ci hanno impiegato un sacco di tempo ci hanno fatta un po penare ma penso che sia corretto così nel senso ethereum nasceva con quel motto purtroppo di vitaliche che diceva move fast break everything quindi la retro compatibilità chi se ne frega di dicevano che è una cosa diametralmente opposta rispetto al concetto di bitcoin del tipo prima che fare un passo di un millimetro in qualsiasi direzione ci pensiamo magari fosse anche anni va benissimo così adesso con tutta la defai che è piovuta su ethereum non possono più avere un atteggiamento così diciamo non dico lo sbando però così cowboy cowboy esatto però non possono più fare questa cosa qua quindi ce l'hanno fatta appenare molto questa ethereum 2.0 sembra che stia arrivando è utile per l'universo ethereum perché diciamo abbiamo già avuto prima il caso famoso vecchio caso critto kittis di ingolfamento della rete ethereum che l'aveva panata lì poi ultimamente anche con il caso defais abbiamo avuto qualche mese fa le fia le stelle perché c'era molto movimento in quello quindi il tentativo di riuscire a fare una a aumentare la scalabilità tramite lo sharding secondo me è molto interessante ha delle complessità tecniche sotto che sono enormi per questo cioè basta pensare già è difficile come dire riuscire a organizzare bene al suo interno una blockchain tra virgolette normale quindi blocco 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 a tremino tu figurati quando hai n di questi tre mini in parallelo che poi un minimo devono anche condizionarsi fra di loro e regolarsi fra di loro non è una cosa assolutamente semplice il disegno della struttura è chiaro i meccanismi un po meno tra l'altro ho notato ci sono molte similitudini nell'architettura proposta per il titolo 2.0 con lo sharding con polkadot perché vabbè è dato insomma le teste coinvolte più o meno sono sempre le stesse e mi sembra sia anche il modo più normale più naturale in cui non potrebbe organizzare uno sharding in fondo l'idea mi sembra che sia molto molto coerente con quello che si vuole fare vediamo quando arriverà adesso abbiamo ancora n step che ci porteranno ben dentro diciamo durante il 2021 per vedere le varie fasi che arriveranno fuori speriamo che effettivamente arrivi a traguardo come si proponeva di fare portando esattamente quei risultati lì diventerà una cosa molto interessante complessa ma interessante esatto 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 io stavo entrando un po in minuzie cose un po delicate dicevano in particolare cosa succede se non c'è nessuno più che fa staking su una particolare shard perché viene sostanzialmente abbandonata secondo me ci sono tante sfumature cose che sono anche difficili da anticipare a livello progettuale ma di cui sono preoccupato che se ne accorgano una volta che ci mettono le mani dentro su queste cose esattamente perché il problema allora già appunto la blockchain di per sé è un sistema complesso in matematica verrebbe definito così perché comunque distribuito con un sacco di regole è un sistema complesso il consenso senza qualcuno che lo coordini chiaramente è difficile a prescindere un sistema complesso composto da sistemi complessi mal di denti mal di pancia mal di testa garantito e ci sono effettivamente sì il problema proprio quello cioè non siamo probabilmente in una situazione in cui riusciremo a capire tutte le varie possibili situazioni che si possono presentare perché sono tante perché sono molteplici e perché sono doppiamente distribuite credo che alcuni errori verranno commessi perché è inevitabile secondo me diciamo la probabilità è molto alta quindi me lo aspetto non lo so che cosa succederà come verrà fuori sarà sicuramente sotto questo punto di vista un anno molto molto interessante molto interessante c'è allora l'incubo peggiore è scoprire posteriori che c'è qualcosa che non va e che si rompe quando hai magari una valanga di progetti defai con un tot di soldi bloccati lì perché già adesso ce ne sono tantissimi di ethereum in staking o comunque quindi quello potrebbe essere una bella botta ma mi aspetto che però mi aspetto che la tireranno per le lunghe anche perché tra l'altro inizialmente non c'erano neanche gli smart contract su ethereum 2 quindi agganceranno la blockchain di ethereum 1 come shard all'interno della diciamo così dell'ethereumone distribuito quindi magari questa cosa qua se riescono veramente a metterle in piedi cosa che mi aspetto comunque sia difficile anche il livello di sincronizzazione della comunicazione potrebbe essere comunque una prima fase con un primo layer di compatibilità e poi pian pianino cominciano a spostare nelle altre shard staremo a vedere sarà interessante sicuramente speriamo sì 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 sicuramente soprattutto considera che anche a livello di appunto sia appunto dal devops quindi dal punto di vista matematico questa cosa le stanno studiando adesso le stanno vedendo ora abbiamo tutta una serie di mattoncini ad esempio le primi trive citrografica eccetera eccetera ma il modo di analizzare questi sistemi complessi praticamente in alcuni casi viene quasi sono un'applicazione molto nuova quindi la teoria rimane sempre quella ma lo studio specifico sulla cosa sta venendo fatto adesso perché prima non esisteva quindi diciamo che ecco anche su questo queste realtà stanno dando una grossa spinta rispetto a nuovi settori della ricerca quella ricerca però ancora diciamo in essere cioè almeno stanno ancora cominciando a farla assolutamente certamente sì ok marco per quanto riguarda il discorso ripple un tuo flash xrp come come lo vedi allora io non sono un fan di ripple neanche io io l'ho messa dalle mie sconsigliate ho fatto un video esatto cinque sconsigliate ci ho messo xrp quindi io lo chiamo karma per me no non me ne voglio magari qualche sostenitore di ripple però fondamentalmente ripple è un'idea di riportare diciamo la criptovaluta o almeno io la vedo così parere assolutamente magari non condivisibile però il concetto è abbiamo delle criptovalute abbiamo la blockchain abbiamo inventato questa cosa e quasi l'ho visto come cercano di fare un passo indietro cioè avere una criptovaluta che fondamentalmente è uno strumento al servizio delle banche cosa da cui un po volevamo allontanarci un elemento che ha tanti punti di centralizzazione che era quello da cui volevamo levarci ecco questi punti di centralizzazione tra cui ad esempio quello di dire ripple a quello che chiamo il citofono cioè puoi andare sai l'azienda quello è quello che si sta ritorcendo contro in questo momento anzi è qualcuno ha suonato il citofono no adesso qualcuno ha suonato il citofono e il prezzo è precipitato tra l'altro ho visto una cosa ieri che mi sembrava tra l'altro incredibile ha pompato del 5 5 7 per tutto trainato probabilmente da tutto il resto della bull run cosa che un po mi fa pensare in due termini uno mi aspetto che se per caso riescono veramente risolvere questa cosa con la secca riescono veramente a dimostrare che non sono una security come li stanno accusando che sia tra l'altro leggevo che ci sono anche gli investitori che ci stanno buttando dentro con una sorta di lettere stanno bombardando la secca chiaramente perché ci sono un sacco di giochi se per caso la secca un passo indietro e li lascia andare in qualche modo cosa che non mi sembra tra l'altro neanche impossibile non lo so pagando una mega multa qualcosa del genere mi aspetto che da lì ricominci a pompare a tutto spiano perché viene visto come quello che può essere la diciamo così l'applicazione diciamo finance vecchio tipo che piace ai grossi player di quello che può essere la nuova tecnologia guarda ti dirò io quasi glielo auguro nel senso che prima così non si fa male nessuno recuperano magari quello che hanno perso in questo periodo qua che va sempre bene però dall'altra parte mi viene da dire beh se non riescono a fare un attacco di questo genere a ripple che ha il famoso citofono che ha probabilmente commesso qualche errore di comunicazione vuol dire che a maggior ragione bitcoin e molte altre sono assolutamente al sicuro rispetto a questo tipo di attacco non solo perché non hanno citofono ma perché vuol dire se non l'hai fatto a loro qua c'è ancora molto di meno quindi voglio dire sarebbe un buon segnale anche per tutte le altre sicuramente sicuramente sì poi sai c'è tutto il discorso che io non mi immagino il sistema bancario internazionale che ceda alla ripple società il controllo dei bonifici cioè non vedo io sto pensando se io fossi una banca non andrei mai a mettere nelle mani di un'altra società indipendente sulla quale non ho nessun controllo che può tra l'altro stabilire che domani le fee si moltiplicano per 10 sulle transazioni perché comunque il sistema è altamente centralizzato oltre al fatto che non dimentichiamo che hanno in mano il 50% della supply quindi in qualsiasi momento se loro vogliono ritirarsi e andare a vivere su un'isoletta vendono metà di quello che hanno e sono tutti crisi quindi ci sono tante cose che mi suonano male ecco allora secondo me se una banca cioè un network di banca incomincerà a utilizzare qualche cosa ed è probabile farà una cosa completamente diversa concordo noi abbiamo avuto in Italia quel caso in cui appunto la banca d'Italia con altre realtà ha guardato al meccanismo della spunta quindi fondamentalmente il sistema di compensazione fra le varie operazioni fra le varie banche che è quello che poi alla fine una delle applicazioni principali di Ripple l'hanno fatto con Corda quindi con una non blockchain assolutamente privata completamente sotto il loro controllo se mai le banche del mondo metteranno su un network globale di compensazione sarà qualche cosa di simile ma sicuramente chiuso, privato, sotto il loro controllo probabilmente non serve neanche che sia 100% basato su blockchain ma ruberà qualche idea qualche spunto su come viene realizzata questa diciamo anche perché di decentralizzazione e trasparenza sostanzialmente a questi soggetti a parte il fatto degli interessi ma voglio entrare nella polemica però a parte gli interessi ma che benefici li può portare se non un peggioramento delle performance nel numero di TPS che possono effettivamente portare per via della transizione assolutamente quindi assolutamente non vedo un gancio neanche per questo diciamo così guarda forse non so come la vedi tu però ecco la cosa che più mi si avvicina probabilmente a una commissione fra il mondo bancario e il nostro sono le famose CBDC le famose scusa? CBDC Central Bank Digital Currency no no l'euro digitale il dollaro digitale ah ok ho capito ho capito sì sì assolutamente che saranno comunque sotto il controllo comunque centralizzate ma avranno quel saporino quell'effetto quella percezione quasi di criptovaluta probabilmente faranno qualcosa del genere visto che in Cina già stanno facendo qualche cosa chissà probabilmente arriverà anche qualcosa da noi ho visto assolutamente criptovalute di Stato che alla fine ci stavo pensando che cosa cambia nel senso che adesso stampano dollari dopo stamparanno criptovalute digitali quindi manca la supply finita no quindi assolutamente no ma quella quella è sicuro che non la non la vedranno mai cioè per uno Stato comunque per una banca centrale lo strumento di aumentare o diminuire la supply è fondamentale o meglio è fondamentale fondamentale perché sono abituati a lavorare con quegli strumenti e se glieli togli panico tu figurati mettere una banca centrale e dire la supply è finita è limitata e adesso devi giocare con delle regole di quel tipo lì cioè le cose che devi fare devi fare sul serio tenendo con no 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 molto meglio avere la possibilità di avere un bel rubinettone che apre e chiudi va bene adesso ci sarebbe dappre un altro bel discorso su questo rubinettone che hanno che hanno aperto negli usa no hanno aperto questo rubinettone hanno stato fatto più soldi negli ultimi sei mesi che non da quando è stato fondato gli Stati Uniti leggevo qualche qualche tempo addietro una cosa una cosa pazzesca di questo tipo faccio la domanda Marco che io veramente in un certo periodo non ci dormivo di notte ma tutta sta carta che in questo momento sta andando tutta nel settore azionario e con i buybacks con tutto questo discorso ma quando arriva sull'economia reale perché prima o poi bisognerà che in qualche modo cominci non è che possano fare buyback a vita queste grandi aziende no ma tutta una volta che sta massa di carta arriva sull'economia reale che non vedo come non ci possa arrivare che abbattimento di acquisto ci sarà un'inflazione esagerata perché comunque vabbè da qualche parte quei soldi finiranno sì diciamo che ecco potremmo vedere un ulteriore aumento del valore delle criptovalute in generale in particolare di bitcoin perché ci sarà una diminuzione enorme del valore del dollaro quindi non è semplicemente come dire viene apprezzato bitcoin perché c'è il mercato lo compra ma semplicemente perché la controparte di questo scambio vale sempre di meno probabilmente perché è normale che sia così una battuta me la sono segnata purtroppo non è mia avrei voluto canzarci io però bitcoin non ha un massimo perché il fiat non ha un minimo vero giusto e quindi quando più ci avviciniamo a quel minimo e più salire al resto d'altra parte appunto il nostro vantaggio è 21 milioni punto per ora per ora almeno finché non capita qualche cataclisma 21 milioni sono e 21 milioni restano e quelli sono come loro come dicevamo all'inizio la quantità è quella più scavare di più non puoi non lo so allora è un problema perché secondo me ci sono degli scenari per cui la crisi del 2008 potrebbe sembrarci acqua fresca perché qua si intreccia il discorso crisi economica nell'economia reale un'inflazione esagerata una concorrenza fra paesi anche a livello economico finanziario assurda poi ecco una cosa che a me un po' invece preoccupa appunto sono le pseudo criptovalute di stato che non avranno più confini cioè qualora dovesse essere sdoganato al 100% l'euro digitale o il dollaro digitale tu non hai modo spero di vietare il fatto che quell'euro digitale possa essere speso in Zimbabwe se potessi evitarlo sarebbe peggio perché vorrebbe dire che hai un controllo pazzesco sulla moneta fino al punto di dire ogni singola transazione dove viene fatta io lo posso censurare o meno sarebbe ancora peggio però se non hai un confine geografico a dove puoi andare a spendere quei soldi vuol dire che l'economia di molti paesi che hanno delle monete che sono già carta straccia non usano più la moneta del loro paese non ce l'hanno utilizzare quella del paese estero quindi vuol dire che quello stato è già in default perché se in Italia pagassimo solo quei dollari un po' come succedeva non so in altri paesi del punto del sud America il famoso Venezuela dove il petro non è esistito mai i bolivares parlavo con un ragazzo di Dash che dice cerco di fare la spesa appena mi arrivano i soldi perché se aspetto un giorno è come se me ne avessero dati di meno è una follia cosa fanno quei paesi lì il ministero dell'economia si mette un bel paio di infradito e dice ragazzi tanto è uguale perché qualsiasi cosa io faccia con la moneta di stato nostra non la usano assolutamente ma sentivo già adesso ho visto un venezuelano che diceva l'altro giorno la maggior parte di noi fa in modo che arrivino soldi che arrivano dei dollari dagli Stati Uniti da persone che lavorano là perché altrimenti guadagniamo l'equivalente di un dollaro al mese qualcosa del genere quindi abbiamo dei problemi di inflazione fortissima non riusciamo proprio ad utilizzare la moneta per acquistare neanche bene di prima necessità quindi questa situazione probabilmente è quello che all'unice di quello che stai dicendo assolutamente chi è che utilizzerebbe la moneta di un paese che tutti i giorni si deprezza rispetto a quella consolidata come possono essere dollari che alla fine sarebbe sto pensando sarebbero o dollari o euro forse o cripto o cripto o cripto perché a quel punto lì secondo me ecco purtroppo la necessità reale di mangiare il giorno dopo è una di quelle spinte che ti fa superare tutte diciamo le tue diffidenze rispetto a qualche cosa o non ho voglia di studiarne ecco quando arrivi a quel punto lì dici guarda ho visto uno che l'ha fatto e sta meglio di me da domani da adesso comincio anch'io perché lì diventa una questione di necessità sicuramente ma mi è piaciuta anche la storia del giocatore del giudicatore americano che si ha detto che si fa pagare in bitcoin che poi in realtà come io immaginavo appena ho letto il titolone la società gli ha detto noi ti paghiamo in dollari come la prima poi dopo tu fai quello che vuoi con i tuoi con i tuoi guadagni però però un argomento sì 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 perché vuol dire che stai tornando adesso un argomento mainstream tu pensa da noi abbiamo questo strapotere subculturale purtroppo del calcio su qualsiasi cosa abbiamo c'è stata Silvia Bossio che ha partecipato a questo grosso progetto in cui è riuscita a far sponsorizzare sponsorizzare tra virgolette quindi mettere il logo di bitcoin sulle divise di alcuni giocatori di una squadra mi pare femminile di serie di credo quando arriva lì ce l'hanno tutti certamente quindi che uno sportivo famoso lo adotti per me va solo bene rispetto al discorso muscle option cioè lo fai lo fai vedere lo pubblicizzi fai venire il dubbio magari qualcuno lo si fa incuriosire e qualche cosa fa pensa qui da noi se ci fosse il Ronaldo di turno o chi per esso io non seguo il calcio quindi adesso magari dico il nome sbagliato però un Ronaldo di turno o un grosso giocatore di serie A che fa una dichiarazione del genere cioè secondo me sarebbe un balzo anche qui da noi magari a qualcuno l'idea verrà magari appunto tramite questo giocatore dell'NFL qualcuno dice ma sai che forse come idea non era tanto stupida ma infatti ma se ci pensi però se veramente diventa uno store of value secondo me è un'ottima soluzione nel senso che questo qui l'ha visto lunghissimo quanto giocherà questo personaggio prima che sia troppo vecchio 5-10 anni quanto giocherà nella vita o meno il titolo americano con tutte le botte che prendono secondo me quindi sì 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 giustamente quindi fondamentalmente se lo fa metterli dentro sostanzialmente non ha il problema di fare dello stoccaggio se se lo facesse convertire in oro dovrebbe mettere da qualche parte tutto questo oro se lo fa convertire in bitcoin se è abbastanza bravo riesce a non spendersi tutto come fanno generalmente i giocatori e una parte anche solo per difficoltà pratica di spenderlo dopo poi lo tiene da parte come bitcoin questo qui si fa una vecchiaia più che vincitore ma infatti guarda ecco io avevo fatto un meme scherzoso l'altro giorno ho fatto una riflessione la pensione dei millennials si chiama bitcoin io come dire ho ancora qua il fatto che a me è arrivata quella famosa busta arancione dell'Inps dice tu andrai in pensione fino a 72 anni no vuol dire che non andrò in pensione perché a fare l'informatico fino a 72 anni quando adesso le università sfornano ragazzi molto svegli brillanti non arrivi a fare il mio lavoro a 72 anni me lo chiedo anch'io me lo chiedo anch'io delle volte Marco ma la retrocompatibilità che la nuova versione ha deprecato quella funzione adesso soffio ma la metto a posto ma come faccio a 70 anni me lo chiedo no 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 ma da 70 anni quando io e te avremmo almeno io sono classe 72 tu probabilmente sei un po' più giovane di me 82 eh ok un bel po' ecco adesso è già così c'è la retrocompatibilità soffice Docker basta hai risolto cioè sono problemi che appunto noi della vecchia guardia ci poniamo che non esistono più quindi tu figurati fra dieci anni che cosa non ci sarà cioè saremo già oltre il cloud saremo già con paradigmi di programmazione completamente diversi auspicabilmente avremmo sdoganato questo concetto che è distribuito è bello che è centralizzato non va bene magari quello che io penso la blockchain sarà diventata un po' come il back end di internet perché poi lavorando programmandoci un po' sopra mi sono reso conto che ha delle potenzialità pazzesche su questa cosa qua e quindi però io a 70 anni sicuramente non riuscirò a fare quella vita lì assolutamente assolutamente la mia speranza è che adesso mettendo da parte qualche cosa compri qualche satoshi ogni tanto fai magari un piccolo piano di accumulo per la pensione o magari per le figlie un giorno chi lo sa facciamo che è una speranza adesso mi costa poco a scommetterci sopra speriamo speriamo assolutamente assolutamente va bene Marco direi che siamo andati un po' più lunghi di quello che c'eravamo dediti starei qua a parlare con te per ore tutto quello allora facciamo così la rifacciamo la prossima volta te la facciamo a casa mia così andiamo avanti a casa mia cioè sul blockchain caffè così andiamo avanti con questo abbiamo ancora 20.000 cose così può parlare poi mi faccio un po' prendere non so se no vabbè guarda anch'io quindi assolutamente va bene lasciamo il link a blockchain caffè qua sotto nei commenti del video grazie mille mi raccomando seguite Marco che fa sempre video molto interessanti anche alcuni molto tecnici tra l'altro sono quelli che mi piacciono di più ti dico la verità e niente Marco grazie di tutto ci risentiamo grazie a te è stato davvero un piacere bellissima serata grazie a presto la rifacciamo ciao